a guardate lontamento di notte del bosco dai, eh, troviamoci del bosco tutti quanti che bello dai e poi qua io dai, dai, andiamo tutti quanti lì facciamo una ben parola e poi dopo che ci sia di infarda con i medici uuuuuh bella, bella sei giudato, sei giudato sono giusto sei giusto e allora doveva già essere qui ho visto la macchina la macchina di trevor con tre io qua a prendere trezzo si sono rimessi in serio scusa, non ti ho detto quanto qualcuno pagherà per questo come te l'ho detto prima ma perché perché io così è la scarpa di trevo fai gatti del sangue vieni, ciò che fai vieni 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 non è il maschio tu non lo spique vieni parliamo di fransè vieni andiamo in palio andiamo in palio E' Mario, non solo il Mario E' Mary Jane Mary Jane Mary Jane Andiamo, andiamo Fatti coraggio, andiamo Bill, andiamo Aiuto Mary Jane Sì, sono bravo Paola, Paola Un attimo Ma Paola, prego, prego Chi, prego, prego Chi cosa? Chi l'ha preso? Chi risponde la mia Saremo, Revor E' un contremolo Nella sua macchina E' come state facendo? Lascia parlare, venissima Mi è avvicinato Mi è avvicinato Ho provato di Pazzetto Si è avvicinato chi? Cosa? E' che E' che Non lo so Ero giù 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 Non è tre Armiamoci Armiamoci Io ho preso Questo retino Andiamoci Calma Prego Mettete Non lo mettere Calma, calma Stai attento Bill Stai attento Bill Non lo mettere È orrendo Però è lentissimo Mettete Mettete Mary Jane Ma ancora non ti ha preso? No Ti sei mai aiutato Ti sei mai aiutato Ti sei mai a me C'è 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 questo ci sono dei sassi magici, non potrai più uscire da qui, che cosa stai facendo con Mary Jane? Vieni Jane, vieni, non puoi entrare, ci sono dei sassi magici, è pieno, è pieno, è pieno, la foresta è piena di sassi magici, ma che cazzo è la foresta di caldo? Vieni, non hai ancora capito, vieni, io sono d'accordo con Trevor, perché lui è Trevor, lui a notte si trasforma in un bravo. Non è una maledizione, ha condannato Trevor a diventare un bravivo mannale, era stanco di farsi andare via le donne dalla macchina, perché nella sua trasformazione era talmente lento che le donne si addormentavano. Ah, era così facile. Prego, prego di pensaci, perché nel cerchio delle pietre magiche che ha trovato nel tuo foresto di notte, in una notte di luna piena, dove io e te dovevamo fare ben altro, e invece siamo qui. Non lo sai. Oh, 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 sì, ma non lo fai bene. Lo sto guardando fare e non faccio niente. Che bravo fuori, tu, c'è il branco dentro.